Anche l'Africa Chiama facente parte del comitato di Marche Solidali, domani sarà presente al convegno organizzato alla Mediateca Montanari. Qual è il titolo di questo incontro e da che ora si svolgerà? Allora il titolo sarà, possiamo ancora parlare di pace e sviluppo, il tema centrale di questo incontro è proprio quello di sedersi a una tavola rotonda per confrontarsi sul tema della cooperazione internazionale. Lo faremo alla sala ipogea della Mediateca Montanari a partire dalle ore 16 fino alle ore 19. Chi saranno i relatori? Allora aprirà l'incontro il sindaco del comune di Fano, Massimo Seri, perché ricordo che il comune di Fano è impegnato in diversi progetti di cooperazione internazionale come soggetto capofila, finanziati sia dall'Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo sia dall'Unione Europea. Un impegno importante del comune in questo senso, proprio perché anche gli enti locali possono essere e devono essere degli attori importanti appunto nel campo della cooperazione internazionale. Dopo di lui interverrà l'assessore Antonini della Regione Marche per la cooperazione internazionale. Un intervento importante, proprio anche lui, a sottolineare quello che appunto la Regione Marche sta portando avanti in questi anni nel campo della cooperazione internazionale, soprattutto in Africa e nei Balcani. Poi interverrà Andrea Stocchiero della organizzazione FOXIV e soggetto capofila del progetto Generazione Cooperazione. Un progetto appunto che sta portando avanti un po' in tutta Italia, quindi a livello nazionale, un percorso di sensibilizzazione proprio su questo tema. E poi interverrà la professoressa dell'Università di Urbino, Francesca Declitch. Interverrà inoltre Ivan Antoniozzi, consulente del comune di Fano, che ha gestito e coordinato proprio questi progetti che si attuano appunto in Africa, che vedono l'impegno del comune di Fano. Al loro fianco poi ci saranno anche delle esperienze di giovani attivisti appunto della cooperazione internazionale. Tagua, una studentessa proveniente dal Sudan, che in questo momento sta studiando medicina all'Università di Ancona, e Margherita Capecci, che modererà tutto l'incontro. Oltre alle tante associazioni che si occupano di solidarietà. Sì, saranno poi presenti appunto le associazioni che fanno parte di questo coordinamento, che si chiama Marche Solidale, un coordinamento di organizzazioni della Regione Marche, che si occupano di cooperazione e solidarietà internazionale. Sarà anche l'occasione per i giovani, ma anche i meno giovani, di conoscerle e di venire a conoscenza di quelle che possono essere tutte le opportunità di volontariato, ma anche di sbocchi professionali appunto nel mondo della cooperazione. Grazie a tutti.